Con i vincitori dell'americana, una bellissima gara, una fantastica vittoria. Sì, perché per me la prima corsa non buona la gamba, la sensazione non buona. Per l'americana arriva buona e vincere per Terry e Neo è molto bene. Tu e Terry, insomma, una coppia fantastica, una bellissima vittoria, poi l'americana è sempre una gara entusiasmante, bellissima. Sì, perché Terry fa il terzo alla corsa a punti UCI e vincere la U23 Madison alla Coppiana dell'Europa. È un buon corridore, tanta pista e tanta strada. Prossime gare qui e dopo quali saranno? Dopo per me sei giorni di Torino e per Terry ho pensato di fare un po' la vacanza. Un po' di vacanza per Torino per te. Contenti di essere stati a Fiorenzola, stati bene a Fiorenzola, tutto ok in Fiorenzola? Sì, per me è tutto ok perché questa è la cinque volta che fai e tutte le volte finito al podio. Come back to this year, I hope I can do it one time more.